Uno degli elementi di questa campagna elettorale era di capire quanto il movimento Notav avrebbe influenzato il voto, in favore in particolare del Movimento 5 Stelle, M5S, in Valle di Susa. I risultati delle europee ci dicono che in effetti in 22 centri della Valle, tra cui Susa, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il maggiore risultato, è il primo partito. Invece in altri 12 centri, tra cui ad esempio Avigliano e Bardonecchia, vince il PD, mentre Forza Italia vince soltanto in tre centri. Ora si è in attesa dello spoglio delle regionali e delle comunali per capire se questo voto europeo avrà un riflesso diretto, in particolare ad esempio la battaglia per le comunali, dove il sindaco uscente, la signora Amprimo, è dichiaratamente favorevole alla TAV.